Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con un nuovissimo episodio dedicato alla carriera all'annatore con il Dallas. Allora, siamo alla fine del calcio mercato di gennaio, ancora qualcosa lo dobbiamo fare, vi avevo lasciato in sospeso con una gestione importante, anche da valutare un cambio squadra in qualsiasi momento. In questo momento però non ci sono incarichi, è possibile arrivino dopo il calcio mercato, in ogni caso se non dovessero arrivare controlleremo in questi mesi, ma nel caso appunto a giugno-luglio direi cambieremo squadra, ma diciamo che cambieremo squadra nel giro di un paio di episodi massimo. Cosa dobbiamo fare però? Perché noi qui dobbiamo andare innanzitutto nel Dallas, eccoci qua. C'era arrivata un'offerta di trasferimento interessante, da valutare. Allora, scusate un secondo, sono un attimo in difficoltà, voglio andare a vedere una cosa. Io ho controllato la fine dello scorso episodio, che ho concluso nelle dieci ore, davanti alle dieci ore, e mi era arrivata l'offerta per Gomez. Questa da dove cazzo è sbucata fuori? Nel senso che è vero che ero sul Canada, ma cosa fanno? Non arrivano le notizie della squadra di club? Sono abbastanza stranito da questa offerta, raga. Facciamo le cose con calma. Allora, la squadra Chelsea si è detta interessata ad acquistare Johan Arath Gomez. Dobbiamo valutare, secondo me, tutta la questione per intero, perché il Chelsea quest'anno si è mossa ampiamente per migliorare e rafforzare il proprio settore giovanile. Partendo con Slonina, aggiungendo poi Casadei, il centrocampista della Stonevilla. In questo momento non mi viene il nome. Gomez, in questo caso, sarebbe un calzatore che ovviamente non giocherebbe nella prima squadra inizialmente, ma andrebbe a rinforzare il settore giovanile, realisticamente parlando, come vuole fare il Chelsea. E quindi è una trattativa che io vado a prendere in considerazione. Non rifiuto di base, ma è anzi una trattativa molto realistica. 8.700.000, la cifra che possiamo chiedere. Certo che vendere così, due attaccanti, dopo che hai vinto l'MLS, è tosta. 6.000.000. 7.800.000. Va bene, è così. Per quanto riguarda Velasco, invece, diciamo che questa è una somma che il Dallas accetterebbe subito, probabilmente, senza neanche andare a trattare. Ma vediamo un attimo cosa possiamo fare. Penso che Velasco si meriti un top team per caratteristiche, potenzialità, ovvero l'attuale. Vediamo se riusciamo a regalare magari al Dallas anche una percentuale su una futura rivendita. Sarebbe realistica come trattativa. Proviamo 85.000.000. Con una clausola della rivendita del 10%. Non vogliono inserire la clausola della rivendita e allora noi andiamo sui 75.000.000. Ok, ragazzi. Trattativa chiusa. Trattativa chiusa. 75.000.000 per Alan Velasco. È stato acquistato, se non sbaglio, neanche a 10.000.000. E wow. Wow. Che eccessione super. Ho valutato anche, mentre ero un attimo qui prima di registrare, lo spostamento di Ariola da Atti. Ci mette due settimane, quindi potrebbe essere una nuova vita per lui. Considerato che sulla tre quarti potremmo avere problemi adesso che non c'è più Ferreira, Ariola ci starebbe benissimo. Vediamo un attimo come si evolve la situazione Velasco, perché in ogni caso ho il nome sostituto. Subito. E lo conoscete anche voi. Nel fratt... Ho capito, ma io come vado in giro? Cioè, come vado in giro? Io non ce la posso fare. A parte che Velasco per il momento non se ne sta andando. Fommi, cara, Leeds United. Paxton. Quanto è bella. St'offerta, ragazzi. È una forza incredibile. È un'offerta pazzesca. È un'offerta assurda. Che due palle. Atomica. Niente, io sto sfaldando la squadra. Dopo la vittoria dell'MLS squadra distrutta. Che cazzo ci vuoi fare? Sta gente, dopo che ha vinto, è giusto che vada a provare altre esperienze in Europa. Ma è giusto così, ragazzi. Non prendiamoci in giro. Ma è giusto così. L'MLS per questi ragazzi è un punto di partenza. È un punto di partenza. Vogliono farsi scoprire. Saranno sempre grati alla società. Saranno sempre grati ai tifosi. Ma a un certo punto i tifosi lo sanno. Questi ragazzi meritano di andare a fare esperienze in Europa. C'è arrabbiato qualcuno con Pepi perché è andato all'Augsburg. Nessuno. Gli hanno detto, hai fatto vena ad andare. È così, purtroppo. È così. Non stiamo qui a prenderci in giro. Poi, è vero, io sono con le pezze al culo adesso. Però fa lo stesso. La società troverà il modo per... Però a un certo punto, anche se le trattative si chiudessero su questo gioco di merda, non sarebbe male. Io come faccio ad andare a prendere gente che non so se le trattative vengono chiuse? Ragazzi, falliranno. Probabilmente falliranno perché è un gioco veramente brutto. Vabbè. Velasco per il momento è con noi, quindi ce lo teniamo. Abbiamo la seconda punta. Ok. Solo tre quarti. Però a questo punto... È vero, c'è Riola. Visto che abbiamo 50 milioni, li andrei a spendere. C'è un ragazzo... No, non abbiamo 50 milioni. Abbiamo 37. C'è un calciatore che vorrei provare. Ecco, l'avevo inserito qua. In caso proprio di cessione di Gomez. Ovvero Mihailovic. È in scadenza nel Montreal. Ha fatto una stagione molto, molto importante. Molto, molto importante. Su Soraya è arrivato a costare una cifra fuori di testa. Anche la carta limited. Provo ad acquistarlo. Non voglio comunque regalare un Dallas troppo indebolito. Quindi prenderlo e liberarsi magari anche di Zabeleng non sarebbe malissimo. Considerato anche che è in scadenza. Oddio, non rischiamo di buttare tutto nel cesso. Facciamo così. 15 milioni. Mi sa che a 14 possiamo chiudere. Molto bene, raga. Ci siamo liberati anche di Zabeleng che avrebbe fatto sicuramente più punti overall. Con il cambio di ruolo. Ma chi se ne frega. Chi se ne frega. Va bene così. Mihailovic cruciale. Va benissimo. Lo stipendio. 5 anni. Va bene. Adesso con la questione international dovremmo esserci. Anche perché... Perfetto. Abbiamo chiuso Mihailovic, signori. Anche perché erano 8 gli international che potevamo tenere. E quindi... Adesso andiamo subito a vedere Mihailovic. 1 Pigliacelli. 2 Bravo. 3 Stark. 4 Palavesino. 5 Velasco. 6 Moreno. 7 Schoen. E 8 Hernandez. Così ci siamo. Eccolo qui il nostro Mihailovic. Trequartista. All'evenienza. Seconda punta. Ancora migliorabile. 77 di Ovorole. Quindi devo dire che ci siamo. Il trio d'attacco adesso mi piace molto. Per il momento ci stiamo muovendo bene. Siamo un po' in balia di queste cessioni. Però va bene lo stesso. Vediamo cosa succederà. Ma secondo me non si chiude nulla. Sia Pommi, calche e Velasco rimarranno. Perché è un gioco fatto bene. Oh! Ovvero il trasferimento. Justin C'è il Burmouth. Mi avete rotto le palle. Sinceramente. Mi avete scassato la minchia. Olè. Rifiutiamo. Trattative tra Litz e Atletico Madrid. Quindi Velasco e Pomical. Che non sono andate a bufine. Cosa stai dicendo Palavesino? Ma cosa stai dicendo? Ma... Ma cosa stai dicendo? Non so cosa sia successo. Trattative, trattative, trattative. Non hanno trovato un accordo. Io me li tengo volentieri ragazzi. Ci siamo. Il calciomercato è ufficialmente concluso. E quindi abbiamo... Uno alla sinistra di riserva, Moreno di Velasco. Incredibile ancora con noi. Marshall Ruti e... Arriola, ipoteticamente. Hernandez con Gomez. Mihailovic con... In realtà Arriola. A centrocampo ci siamo con Leggett e anche Roberts. In difesa ci siamo. Abbiamo Smith, Farfan e Kessler. Con in porta Pigliaccelli e Carrera. Top. Top. Ci siamo. E mentre proseguiamo, ogni tanto buttiamo l'occhio negli incarichi. Per il momento non ce ne sono. Amichevoli internazionali per il Canada contro la Polonia e il Galles. E siamo a fine marzo. Fare 2-2-2 con la Polonia. Sconfitta 1-0. Sono amichevoli. Sono amichevoli. Tra l'altro... Quando giugno, luglio, agosto... Aspettate un secondo, novembre... Qui ancora non è segnato il mondiale da valutare. Adesso però inizia la stagione, ragazzi. E abbiamo la US Open Cup. Una coppa che noi, anno scorso, non siamo riusciti a portarci a casa. Questo turno 2 però lo andiamo a simulare. Formazione titolarissima. Vediamo come va con i nuovi giocatori subito, subito, subito in campo. E si regalano la vittoria. Velasco, pareggio di US al 84esimo. Pola Riola e di nuovo Velasco. Si regalano il 3-1. Adesso direi che aprile lo andiamo a chiudere giocandoci la partita contro l'Austin. E poi giocandoci la partita contro il Los Angeles a quel punto iniziando maggio. Vediamo come va con Real Salt Lake. Pareggio, gol di Mihailovic che risponde a Glad. Nel frattempo Smith trova un accordo con il Groningen e quindi probabilmente in estate si trasferirà. Next match contro lo Houston. Partita che in realtà è molto, molto sentita. Però noi ce l'andiamo a simulare perché siamo nettamente superiori allo Houston. Allora, palla vecino, mi stai scassando la minchia. Te lo posso dire? Innanzitutto facciamo così perché secondo me ti stai sentendo un attimo troppo importante. Famo così. Sei sempre qui alla mia porta. Cosa vuoi da rompere le palle? Vai, boh. 2-1. Bravo e Velasco. Attenzione, Velasco ha iniziato a segnare. Nel frattempo, cuffiate le orecchie. Che poi ha iniziato a segnare. Vabbè, moreno, madonna mia. Che due marroni che fate, ragazzi. Oh, vi siete montati la testa dopo la vittoria dell'MLS. Tutti li dovevo vendere. Tutti. Adesso ce l'andiamo a giocare contro l'Austin. Che è un dicesimo. Ma è una squadra che a me spaventa molto. Vai. Sono pronto. Andiamo in campo, signori. Sempre sul pezzo. Forza Dallas. Velasco, bellissima la palla per Hernandez. Che si presenta così. 1-0. Proprio Hernandez. Non sbaglia un colpo. Bello l'assist di Velasco. In profondità si è mosso benissimo tra le linee Hernandez. E ha battuto il portiere. Ok, Mihailovic. Se ne va in dribbling. Bravissimo. Ancora Mihailovic. Cerca un varco Mihailovic. Ci prova con il destro. Non sono convinto che sia il suo piede. Però si era mosso benissimissimo. Invece è proprio destro. È proprio destro. Velasco. È diventato troppo forte, ragazzi. È diventato troppo forte, Velasco. Ora sì che è in game. È un'altra storia. Mihailovic. Proprio Velasco. 2-0 in 15 minuti. Il Dallas. Esplode. Di gioia. Hernandez. Bellissima la palla per Mihailovic. Attenzione perché sa il controllo altrettanto bello. Si trova davanti al portiere. E lo batte col mancino. Con un rimbazzo del pallone. Non semplice da gestire. Bravissimo Mihailovic. 3-0 al trentesimo, ragazzi. Abbiamo perso pezzi. Ma sembriamo più letali. Semriamo più letali. Controllo non semplice. Non ho sinceramente altro da dire. Andiamo al risultato. Dice 3-0. Pulitissima sta parita contro l'Austin. Mi spaventava tanto. E invece siamo riusciti a gestirla in maniera egreggia. Adesso abbiamo il Los Angeles. Che sarà incazzato come una belva. Anche perché ha vinto premio allenatore. Cosa dobbiamo dire. Anche perché abbiamo fatto un discreto mazzo. Le ricordiamo che deve comunicare l'elenco definitivo dei convocati per la Nazionale Canada. che prenderanno parte del torneo FIFA World Cup entro il 17 maggio 2022. Il 17 maggio. E quindi dobbiamo decidere per la Coppa del Mondo, ragazzi. Non dobbiamo decidere per... la Coppa del Canada. Allora, vediamo un attimo chi stiamo lasciando in la casina. Gutierrez, 25 anni. Sulla sinistra a Dekube. Madonna Dekube, ma cosa combini? Direi che qua ci siamo. In difesa, invece, non è che mi piazza molto sta difesa, eh. 29 anni, 69. 69. 25 anni, 68. La difesa centrale è decisamente rivedibile. Se Gutierrez potesse fare pure il difensore centrale ma non può decisamente farlo. È un peccato lasciare a casa Gutierrez. Diciamola tutta. Vittoria. Ragazzi, abbiamo dei difensori centrali in Canada. a dir poco imbarazzanti. Meg Newton non ha neanche la faccia. 27 anni, non c'hai la faccia, figlio mio. Senza faccia. È un senza faccia. C'è la perruzza, la faccia. È una campagna. Andiamo così. Va bene. Sulla mediana Eustachio con Piette. Che è in realtà di origine romana. Ma sapete che io mi prendo Baldissimo. Se io mi prendo Baldissimo come sostituto di Eustachio. Poi Osorio Kane Kaye Re Kaye e poi avevo preso Fraser Fraser perché loro erano troppo vecchi. Waterspoon no, va bene Fraser va bene Fraser va benissimo. Poi come sterni Nelson Buchanan Schaffelburg Marshall Ruti e va bene. Mi sa che alla fine faremo giocare Davis come ala proprio per questo forse un altro terzino sinistro potrebbe servire. Al posto del terzo portiere ci portiamo portiamo Gutierrez Corbono mi avete detto che è buono Corbono mi avete detto che è buono Ugbo David Larin ha 27 anni Lasciamo a casa Larin e ci portiamo Corbono Comunichiamo alla Rosa perfetto l'abbiamo fatta adesso abbiamo il Dallas abbiamo il Dallas che ha preso le scopole andiamo con questa formazia andiamoci con questa formazia dai ci sto andiamo in campo signori sempre sul pezzo forza Dallas ma sbaglio c'è Chiellini che sta giocando come ala ragazzi o terzino qua intanto rischiamo bravo pala vai con l'inserimento o di Marcello o di Hernández Marshall Ruti davanti al portiere eccesso di altruismo da parte di Marshall Ruti che si fa prendere un bello spavento ma alla fine Hernández non fallisce questo colpetto semplice semplice comunque sarà anche 1.75 Hernández ma sembra bello tostino sembra bello tostino bravo Marshall ti aspettavate il tiro invece bravo bravo devo dire bravo aiaiaiai oh piglione e poi McKenzie oh niente ragazzi Pigliacelli è troppo forte Pigliacelli è troppo troppo forte c'è niente da fare e io qui pensavo di aver già preso gol Mijelovic brutta palla persa qua da Mijelovic ma ci siamo con un qualche rischio non riusciamo a metterla fuori in realtà costa che legna eh qui abbiamo un po' giocherellato devo dire non bene qui nella gestione un po' troppo sicuri di noi peccato peccato ragazzi più concentrati più concentrati forza forza non voglio neanche rivederlo qui brutta la gestione male 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 Hernández palla Vessino ancora Marshall Uti su quella fascia non lo tiene nessuno questa volta prova il destro non inquadra neanche lo specchio peccato ero Velasco viene addirittura a recuperare un buonissimo pallone Pomichal sempre dalle parti di Marshall Uti che viene lasciato colpevolmente solo Marshall Uti passa al centro no dove c'è Mijelovic ma perché ma perché sono sono così questo cuore d'oro Mijelovic ci prova da fuori è una rasoiata che impegna Crepò ok da costa se ne va McKenzie non riesco a fermarlo ci pensa Piacelli Los Angeles adesso ha preso fiducia bravo per Velasco è che abbiamo bisogno di Tevela palla per Mijelovic si passa di nuovo dal centro Velasco di prima attenzione per Hernández controllo destro parata di Crepò parata di Crepò mettiamo Ariola e Gomez non posso crederci non posso crederci Alan Velasco con una magia 2-1 Dallas andiamo andiamo Alan bravissimo che gol dal nulla dal nulla ci provo ci provo cosa devo fare cosa ho da perdere un punto due punti va bene così Alan Velasco Ariola Sean lo chiudo dall'altro lato arriva proprio Alan Velasco Velasco per Gomez 3-1 Dallas fine dei giochi signori non c'è più niente da fare per Los Angeles siamo diventati forse una spannina una spannetta no così così più forti alla fine ne usciamo noi capite loro lottano corrono stringono ci provano ma alla fine dei conti siamo noi a prevalicheare siamo alla fine della partita due minuti di recupero ne è già passato uno siamo alla scadenza del secondo il direttore di gara farà finire quest'azione finisce qui signori battiamo tra uno e Los Angeles e andiamo vittoria super super importante con Chiellini che adesso voglio proprio vedere dove stracacchio ha giocato andiamo a vedere i voti me lasco 10 un gol e un assist molto bene direi molto bene tu direi molto bene qui come piazzare i 5-9 come come è possibile vediamo un attimo Chiellini dovrebbe aver giocato da terzino ma era un'ala aggiunta in realtà l'ha fatto pure no l'ha fatto lui l'assist ok bravi raga bravi 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 dal punto di vista del gioco non giochiamo più non ho più quella mentalità di avere il controllo del campo e della palla ma va bene così in MLS dobbiamo essere spettacolari a questo punto io tutto questo filotto di partite raga lo andrei a simulare proprio in scioltezza si va a simulare contro lo Sporting Kansas e facciamo da qui le simulazioni no dai ragazzi va bene tutto però a un certo punto bisogna avere anche un po' di di buon cuore contro l'Earthwake ci andiamo con la titolare partita sentita 2-2 non si può più vincere impossibile impossibile vincere andiamo a simulare anche contro il Portland vediamo un attimo se oh sta formazione titolare in simulazione poi no non si può vincere in simulazione ragazzi vediamo se contro lo Sporting Kansas possiamo tornare a vincere momento bruttissimo di questa stagione oh finalmente Mihailovic Mihailovic e Hernández altri tre punti anzi si torna a fare tre punti in realtà gli ultimi tre punti li abbiamo fatti nella partita contro il Los Angeles occhio perché abbiamo gli ottavi di finale contro il Portland io direi signori che ci possiamo salutare qui queste qua cose sono queste partite qui non sarà il il mondiale scusami a giugno è il mondiale vabbè sì effettivamente questo è solo perché ha un mondiale io adesso stavo pensando al mondiale in Qatar invernale questo è il nostro giro in Inghilterra Irlanda Ungheria Canada signori ci si deve passare si deve assolutamente passare bello il gioco dove c'è l'Italia Francia Olanda Scozia Nuova Zelanda Italia Svezia Stati Uniti Finlandia chi altro gli Stati Uniti ragazzi tutti i nostri sono nel girone dell'Italia praticamente e questo potrebbe essere un problema per l'Italia devo ammettere Portogallo Belgio Islanda Australia Brasile Polonia Romania Norvegia Inghilterra Irlanda Ungheria Canada e noi gli daremo del filo da torcere a queste tre Germania Grecia Messico Galles Spagna Danimarca Cina Irlanda del Nord Argentina Repubblica Seca Austria e Ucraina mi interrompo mi interrompo qui raga perché nel prossimo episodio ci sochiamo la partita contro il Portland per andare avanti nella US Open Cup e poi simul... non lo so nel prossimo iniziamo i mondiali vabbè nel prossimo episodio iniziamo i mondiali bello belle sono belle destinazioni che prenderei sinceramente in considerazione in Messico no ma in Argentina ci vediamo alla prossima ragazzi fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate non lo so